E' stata una giornata lunga, quindi vi tratterrò per pochi minuti. Permettetemi, prima del saluto conclusivo, vi chiederei un applauso per Luca Orlando. Lo merita perché io lo vedo più come protagonista insieme agli altri protagonisti che come moderatore, perché con le sue competenze, le sue precisazioni, i suoi stimoli ha veramente reso e rende queste giornate veramente molto interessanti. Quindi solo un saluto per dire che considero questa prima giornata una giornata sicuramente di grande soddisfazione. Abbiamo ascoltato il Presidente del Consiglio che ha sottolineato la complementarietà della crescita con la sostenibilità e credo che questo sia un punto assolutamente importante. Abbiamo valutato la disponibilità del Presidente del Consiglio a studiare l'istituzione di un fondo per aiutare lo sviluppo delle imprese italiane in Africa, fondo che gli altri grandi paesi hanno, quindi Germania, Francia, Inghilterra, e che grazie a questo fondo hanno la possibilità di attingere alle garanzie finanziarie europee. Quindi una disponibilità che cercheremo di cogliere e concretizzare col Presidente Boccia nelle prossime settimane. Abbiamo ascoltato interventi di grande interesse sia dal punto di vista dei keynote speakers, quindi Sir Ronald Cohen sulla finanza d'impatto, il Dottor Scannapieco sulla parte che riguarda i finanziamenti di Bay e tutte le tavole rotonde che hanno portato elementi di riflessione, stimoli, contributi sulla sostenibilità declinata nei diversi ambiti, quindi la finanza, la tecnologia, lo sviluppo urbano. Quindi direi una giornata davvero densa, naturalmente anche con interventi delle istituzioni, quindi il Sindaco di Rimini, il Sindaco di Milano, il Presidente della Regione, Emilia Romagna, quindi una giornata davvero intensa. Siamo a metà strada, quindi l'appuntamento è per domani, avremo domani, il tema sarà declinato sotto l'aspetto della responsabilità, ma comunque, come dire, sostenibilità e responsabilità sono due facce della stessa medaglia e ascolteremo interventi che riguarderanno il lavoro, riguarderanno il tema della nutrizione, quindi riguarderanno argomenti importanti e tutti argomenti che dovrebbero farci riflettere su che cosa poi ognuno di noi può portare nel proprio ambito, nelle proprie responsabilità, nei propri ruoli, nel contribuire appunto a costruire questa sostenibilità. Un punto importante è stata la firma che abbiamo fatto oggi pomeriggio con Cassa Depositi e Prestiti, che si aggiunge al memorandum che l'anno scorso avevamo firmato, come San Patrignano, Confindustria, E4Impact e UN International Trade Center, con la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti mettiamo un tassello in più per lavorare su strumenti finanziari che aiuteranno i protagonisti di questo memorandum, di questo accordo, con strumenti concreti per questo progetto di partenariato privato-privato per il cosviluppo, in particolare per i paesi africani.